Tutto può accadere in un istante, come quella storia di un ragazzo intento a messaggiare con il cellulare Che tutto a un tratto sbatte contro il marciapiede, passa un quarto d'ora e ancora non ci crede Impreca contro la sua mala sorte, ma non realizza che stava giocando con la morte Poi la sera questo tipo è al par con un amico che gli dice guarda non ti dico cosa è capitato Guidavo bello rilassato, stavo impegnato a sistemare i miei capelli senza preoccuparmi dei cartelli stradali E intanto sulle strisce pedonali correvano due bellissimi bambini, ora loro stanno all'ospedale Dio stasera son sicuro che non riuscirò a dormire Il barista che ha sentito tutto è il padre dei bambini che ora giacciono in quel letto d'ospedale Sputa in faccia ai due ragazzi la morale, schiacciate meno l'acceleratore, ve lo chiedo per favore Sputa in faccia ai miei capelli